I vigneti terrazzati del versante eretico della Valtellina hanno ottenuto il riconoscimento di paesaggio rurale storico e la conseguente iscrizione nel registro nazionale dei paesaggi rurali storici. Il paesaggio terrazzato vitato con la sua storia e tradizione ha conseguito il prestigioso riconoscimento al termine di un lungo iter che ha visto Fondazione Provinea promotrice del progetto. L'esito positivo della richiesta di candidatura è stato comunicato oggi al termine della convocazione dell'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale presso il Ministero delle Politiche Agricole. In audio-videoconferenza, nel rispetto delle attuali regole, la Presidente Cristina Scarpellini ha illustrato la prestigiosa commissione presieduta dalla Ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova i punti di forza, la storicità e la bellezza di un territorio unico come quello valtellinese. È stato raggiunto un traguardo importantissimo, ha dichiarato Scarpellini, che per la stesura del dossier ha richiesto un lavoro scrupoloso e impegnativo. Il Ministero, infatti, si occupa di identificare e catalogare nel registro i paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico, le pratiche e le conoscenze tradizionali correlate, definendo la loro significatività, integrità e vulnerabilità, tenendo conto sia di valutazioni scientifiche, sia dei valori che sono loro attribuiti dalle comunità, dai soggetti e dalle popolazioni interessate. L'augurio è che questo riconoscimento sia un altro rilevante tassello, dopo l'inserimento dell'arte della costruzione dei muretti a secco, come patrimonio immateriale unesco, a salvaguardia di un sistema con un forte valore identitario, sociale, idrogeologico ed economico. La Presidente ha dunque ringraziato tutte le persone e le istituzioni che hanno sostenuto e collaborato a questa candidatura, in particolare Provincia di Sondrio, Consorzio di Tutela Vini di Valtellina, Fondazione di Sviluppo Locale e Fondazione Foianini.